Il Milan a Monza, un successo per 4 a 1 che porta i rossoneri solo in testa alla classifica. Il Catania infatti non è andato oltre il pareggio con il Varese. Il matatore è stato lo scozzese Jordan, lo avete appena visto segnare di testa su cross di Evani. La scena si replica subito dopo con gli stessi protagonisti, Evani mette al centro e Jordan non perdona. Adesso è capocanoniere con 4 gol. Il Monza ha avuto una breve reazione che ha dato questa rete di Pradella. Il Milan si è rifatto subito avanti, Tassotti conduce il contropiede, Pasinato la prima volta si fa ribattere il tiro da Meani, la seconda non sbaglia. Ad un minuto dalla fine il gol del 4 a 1, Evani ormai uno specialista effettua l'ennesimo cross. Questa volta non c'è Jordan ma Serena ed è tutto per la Serie B.